Visita del vice governatore del Friuli Venezia Giulia, Mario Anzil, presso gli impianti sportivi di Maiano in vista di interventi propedeutici alla funzionalità delle strutture per migliorare il servizio e renderle fruibili a tutti. Sto ragionando la possibilità di introdurre una linea per sostenere i comuni che intendano realizzare concorsi di idee o di progettazione per pensare per il futuro agli impianti sportivi anche nel loro nuovo ruolo di piazze o agora perché la piazza del futuro può essere l'impianto dove ci sono più impianti sportivi perché lì si incontrano le persone. Insomma è un ragionamento interessante e dobbiamo pensarci qualcosa faremo. La speranza dell'amministrazione comunale è che i fondi vengano messi in bilancio da parte della regione già nella prossima finanziaria in modo tale da poter operare nei primi mesi del 2025 e avviare i lavori richiesti. Noi abbiamo interessato il vicepresidente della regione perché abbiamo degli impianti sportivi soprattutto in piazza che sono molto vecchi perché risalgono a prima del terremoto e quindi l'idea è quella di poter ripensare gli spazi perché sono utilizzati dalle associazioni sportive, dalla Promaiano per il festival in maniera unitaria rendendoli anche adeguati alle esigenze attuali che appunto non sono più quelle di 30 o 40 anni fa. Grazie. 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 Grazie.